Allora, allora, allora! Male audience Female audience Male audience Jświad Vado a dare troppa potenza ma in un tanto si è chiusa sulla moto Laia! e qui in Toscana abbiamo due tendici ma posso dire come ho venuto una testa di caldo intanto concludo il discorso che abbiamo iniziato poco fa la stessa storia è una origine completamente diversi perché l'alfetta l'alfetta era una ordina rappresentante ma più lenta che si vivono lo schema trans-exon quindi il campanello del treno ma c'è un po' di video per questo non sono dei pesi ma sicuramente la donata della campanella è il percorso questa è la quattro campanella era il massimo appassionato è la quattro campanella è una festa è la quattro campanella 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 perché si è luesta è la quattro campanella non Fight non spontaneously Siamo arrivati in Sardegna. ha durato nel tempo, ha disattato il sol e Luca non ha fatto la vendemella quando vedevano Luca non sa che ha fatto la vendemella proprio così questo lo si sente ha la caratteristica che è quella delle potele il grido si presenta assieme vi immaginate conosciuto con la vendemella che si passa per comprare sencine le potele per partire chi non lo vuole nel senso della morte sta subito va adicare chi non vede 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 chi è chi è chi non vede chi non vede chi non vede quando ci dite fu chiamato a bretba, c'è il forbole del bambino aspetta, vuol dire un grima, ecco se vi sono andate le scale a. città, noi ragazzi come un p amor Grazie a tutti. Grazie a tutti.